Buonasera a tutti, io come accennava Stefano faccio parte di un'associazione di giuristi avvocati che è l'ASGI e che si trova in tutta Italia. Oggi siamo qui proprio per parlare di come questo sistema e questa politica, che è una politica italiana ma soprattutto è una politica europea, oltre che criminale sia anche totalmente illegale e quindi come associazione stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo in Libia, nel Mediterraneo e in Italia per cercare di far dichiarare a qualche giudice con gli strumenti giuridici come ciascuno di questo pezzetto sia totalmente e completamente illegale. E' un'attività che stiamo portando avanti da diversi anni. Per tornare a quello che diceva Stefano, in questo momento si cerca di non far arrivare le persone in Italia. Come è possibile fare questo inquadrandolo in un'ottica legislativa che noi sappiamo non esistere? Ma come questo viene attuato e come poi viene legittimato? Perché l'Unione Europea continua ogni mese a congratularsi con l'Italia e con la Libia perché gli sbarchi sono crollati, perché l'80% di persone meno raggiunge le coste italiane, si congratula e chiede che ulteriori sforzi vengano posti in essere. Di che cosa si tratta? Minniti è stato il ministro più astuto nel capire che i migranti in mare non dovevano essere più toccati dal governo italiano, dalla marina italiana. Nel 2011 l'Italia ha subito una pesantissima condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo perché a quel tempo, era il 2009, l'Italia prendeva i migranti in mare e li restituiva alla Libia. La Corte diceva hai toccato i migranti, li hai portati sulle tue barche? Da quel momento loro acquisiscono tutti i diritti come se fossero arrivati in Sicilia e un migrante che arriva in Sicilia se chiede asilo, anche se ci stanno provando, non può essere rimandato indietro. Deve essere fatto rimanere sul territorio, lì deve poter fare domanda di asilo. Minniti quindi è andato in Libia e ha fatto un accordo con Al Sarraj, che è uno dei vari presidenti che in questo momento stanno controllando una piccolissima porzione della Libia e ha fatto un accordo con il quale la Libia ha accettato di operare questi intercetti in mare, semplicemente al posto dell'Italia. Non è più l'Italia che prende le persone in mare, ma è la Libia che su delega italiana compie questo atto illegittimo. Come fa la Libia, che era un paese poverissimo in guerra, ad andare in mare, a riprendersi i migranti e a riportarli indietro? Lo fa con le motovedette italiane, lo fa con l'apparecchiatura italiana, lo fa con tantissime risorse che arrivano direttamente dall'Italia. Ci siamo messi a studiarle. Sono tante, partono dall'Italia, arrivano all'Unione Europea per tornare all'Italia, direttamente dall'Italia vanno alla Libia, hanno moltissimi canali. Possono essere fondi che arrivano dalla sicurezza, dalle missioni militari, dalla cooperazione allo sviluppo, oppure da fondi di bilancio. Vi faccio un esempio perché è quello di cui mi sto occupando in questo momento, con una causa faticosissima davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio. Nel 2016, nel dicembre 2016, il Parlamento approva la legge di bilancio e stanzia 200 milioni di euro per un fondo che si chiama Fondo Africa. All'interno di questo fondo ci sono moltissimi progetti che devono essere finanziati, soprattutto nei paesi di transito, diciamo, Niger e Libia, perché all'Europa importano i paesi di transito. I paesi di origine servono solo per bloccare i migranti in partenza, ma quelli focali sono quelli di transito, paesi poverissimi come il Niger e la Libia che devono bloccare i migranti già sulla terraferma. Ora, tra vari progetti vengono finanziati 2 milioni e mezzo di euro che devono servire a rimettere in efficienza 4 motovedette e a formare il personale sopra queste motovedette. Abbiamo cercato di tracciare a che punto sono queste motovedette, sono state, due di queste sono state date all'autorità libica e con queste motovedette oggi si fanno gli intercetti. L'Unione Europea e l'Italia li chiamano salvataggi, ma i salvataggi che riportano le persone in centri di detenzione, chiaramente non sono salvataggi, è una ipocrisia, sono intercetti in mare, oppure pullback, cioè respingimenti al contrario. La Libia si riprende i migranti. Stiamo cercando di convincere il TAR che non si possono dare delle motovedette a delle autorità che ogni giorno torturano i migranti, che ogni giorno li sottopongono a trattamenti disumani o degradanti. Per ora non sta andando benissimo, però abbiamo ancora qualche speranza, perché moltissime associazioni stanno appunto sostenendo questa nostra azione davanti al TAR. Ma che cosa succede quando una persona viene presa e riportata indietro? L'abbiamo chiesto a questi sette ragazzi che abbiamo incontrato in Gambia. Loro sono arrivati dopo un viaggio lunghissimo in Libia, li hanno provato a mettersi in mare, dopo tre ore di navigazione hanno chiamato gli MRCC di Roma, che è questo centro di coordinamento di cui ci parlava Riccardo. Non hanno ricevuto nessuna risposta se non si si stiamo arrivando, solo che dopo un'ora sono arrivati i libici, che li hanno presi e riportati nei centri di detenzione. Attenzione, perché il Ministero degli Affari Esteri ci dice che questa operazione è legittima perché in Libia, ad aspettarli, ci sono le organizzazioni internazionali. OM e UNHCR, che sembrano i buoni di tutta questa situazione, in realtà legittimano questo sistema. Perché cosa succede? In Libia, le persone vengono riportate e qui incontrano le persone delle organizzazioni internazionali. L'UNHCR può contattare solo sette nazionalità nei centri di detenzione in Libia e li riporta in Niger, in Niger dove rimangono in attesa di un possibile reinsediamento in Europa e potrebbero rimanere lì anche anni, perché non ci sono tempi. Non è previsto nessun diritto per queste persone. L'OIM le deve riportare a casa, al punto di partenza. Quindi queste persone ci hanno raccontato che stavano 120, tutti in una stessa stanza. È arrivato l'OIM, un signore con una pettorina appunto dove c'era scritto OIM e gli hanno detto chi sono i gambiani. Hanno alzato la mano 70 persone. Uno tra questi ha scritto i loro nomi in un foglio e a lui hanno detto il 17 gennaio parte il tuo aereo, torni a Banjul. Vuoi tornare? E lui ha detto qual è l'altra mia opzione? Quella di rimanere in carcere fino a che i tuoi genitori non pagano il riscatto. Questo è il rimpatrio volontario che fa l'OIM dalle carceri in Libia e quello per cui l'Unione Europea sta finanziando con centinaia di milioni di euro perché si parla di queste somme. Quindi questo è un piccolo panorama della complessissima politica italiana e dell'Unione Europea che sta portando a seriali respingimenti e ovviamente alla distruzione di qualsiasi possibile osservatore nel mar Mediterraneo che appunto possa continuare a dire a noi quello che sta succedendo e a fornirci anche quelle notizie che noi poi utilizziamo per utilizzare i nostri strumenti giuridici. Grazie. Grazie. Grazie.